Molfetta sportiva Unione Calcio Biceglie, altra puntata in arrivo. Torna domani pomeriggio la Coppa Italia di Lettanti con le partite di ritorno del primo turno o se preferite degli ottavi di finale. Torna anche quello che ormai si può definire un grande classico di questo inizio di stagione, la sfida tra Molfettesi e Bicegliesi, giunta di fatto al terzo atto. Il primo si è giocato dieci giorni fa sul sintetico del Sampio di Bari, era l'andata di Coppa Italia e l'ha vinta 1-0 l'Unione Calcio. Domenica scorsa il club presieduto da Enzo Pedone si è concesso il bis, espugnando con il punteggio di 3-1 il Paolo Poli e debuttando con una benaugurante affermazione nel campionato di eccellenza. Lo stesso impianto sportivo a partire dalle ore 15 ospiterà domani il ritorno di Coppa. L'undici Bicegliese parte con un gol di vantaggio, quello realizzato all'andata d'avventura. Il discorso qualificazione in ogni caso sembrerebbe aperto a qualsiasi soluzione, anche e soprattutto in virtù della voglia di riscatto della Molfetta sportiva. Giocheremo per la terza volta consecutiva, un fatto un po' anomalo, però a parte ora l'avversario, di tutto rispetto, noi cercheremo comunque di stravolgere il pronostico e quindi di cercare di vincere la partita e andare avanti in Coppa. Più che altro per vincere la prima partita e quindi dal punto di vista psicologico risolevarci subito. Fra virgolette un handicap a livello di motivazioni, perché incontrare i stessi avversari, puoi abbassare la concentrazione, puoi cambiare atteggiamento e soprattutto puoi anche dopo una vittoria avere un po' di sufficienza. Io dico che questa vittoria ci deve portare entusiasmo, ci deve portare consapevolezza nei propri mezzi, ci deve dare autostima, ma senza perdere quell'umiltà e soprattutto non calare di concentrazione. È la Coppa più seria di tutte, quella che giocano le protagoniste di eccellenza. È l'unica, infatti, che mette in palio la promozione nella categoria superiore, seppur dopo un lungo e tortuoso percorso, prima regionale e poi addirittura nazionale. Tutte, insomma, ci tengono a far bene, in particolar modo le squadre che hanno ambizioni di Serie D. Discorso che vale per l'Altamura, di scena in casa con Lella Staranto, dopo lo 0-0 dei primi 90 minuti, idem per Cerignola e Bitonto, che invece hanno ipotecato già all'andata la qualificazione nelle sfide rispettivamente contro Vieste e Inocattaro. Il programma si completerà con i seguenti abbinamenti, Otranto-Galatina-Galipoli-Casarano e Novoli-Avetrana.